Ah, che bello! Oggi è una di quelle giornate da sorriscaldamento globale che amo proprio! Ciao, sono youtuber! Vuoi vedere una storia? Eh? Ah no, no, in verità, guarda, grazie, ma veramente non compro nulla, grazie! Ah, ok, ok. Allora... vuoi vedermi il tasso? Sì, ma no, ma che schifo! Va bene, allora io lo esco, eh? Ma no, ma perché? Ma come, perché qualcosa te lo devo pur far vedere? No, no, non è vero, dai fammi vedere dei gattini, dei gattini, dei gattini! Ahhhhhhhh! Va bene, va bene, fammi vedere queste stories! Ma che schifo, ma sei sempre tu che ti segui! Grazie a tutti.